Dopo il successo dello scorso anno, torna all'appuntamento con l'iniziativa Archivi Futuri, organizzata dalla rete Archivi del Contemporaneo, di cui è capofila il Maga di Gallarate e sostenuta da Fondazione Cariplo. Il festival parte dal Maga il 16 di giugno, con una serata alle 20.30, un concerto per pianoforte e apre a tutto il nostro territorio, da Novate Milanese ai Laghi, alla provincia di Varese, con la partecipazione di moltissimi enti che erano già presenti all'interno della prima edizione del festival, Fondazione, Case Museo, Archivi del Contemporaneo e con anche l'ampliamento a nuove istituzioni che ci hanno affiancato e che sono entrati in questa grande rete. Un mese ricco di mostre, spettacoli dal vivo, laboratori e attività. Naturalmente ciò che lega noi e tutti i partner di progetto, per cui le fondazioni, le case museo, con gli archivi, gli artisti e la rilettura del nostro territorio e della nostra storia attraverso l'arte contemporanea, per parlare degli grandi artisti che hanno reso questo territorio significativo, per cui dei grandi artisti come Tavernari, Fontana, Bai, Guttuso, che valorizziamo attraverso una rete forte che si vuole proporre come identitaria per tutta la nostra provincia, partendo anche da Novate Milanese, dove si trova Casa Testori.